salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra serie di appuntamenti sul simi racing ci siamo lasciati che vi avevo anticipato che saremmo scesi in pista in questo nuovo appuntamento ma dobbiamo rinunciare perché ci sono ancora alcune cose importanti che dobbiamo spiegare oggi infatti andremo a trattare le bandiere che sono comunque uno strumento di comunicazione che ha la direzione gara e i commissari che sono lungo la pista per comunicare appunto con i piloti sono appunto delle segnalazioni che hanno un loro specifico significato e che ogni pilota ovviamente deve conoscere alcune delle bandiere che andremo a trattare in questo video non sono presenti nei simulatori però è sempre bene conoscerle perché non si sa magari in futuro verranno implementate quindi meglio trovarsi diciamo pronti allora sarà un video non molto lungo perché comunque sia non sono tantissime le spiegheremo però ecco rispetto agli altri sarà un video un po più corto anche magari maggiormente fruibile quindi iniziamo con la bandiera quella più classica che magari conoscono tutti cioè la bandiera scacchi che appunto sta a significare la fine di una sessione di prove di qualifiche oppure della della stessa gara questa diciamo che è facile poi abbiamo la bandiera nera e bianca invece che sta ad indicare un avvertimento verso un determinato pilota per una condotta sportiva magari un sorpasso un po troppo duro oppure un eccessivo numero di tagli su una determinata curva perché magari se seguite il motosport la formula 1 e quant'altro soprattutto la formula 1 ci sono alcuni punti del tracciato che non si possono sorpassare magari con tutte e quattro le ruote in quel caso viene considerato taglio anche nel simulatore assetto corsa competizione nello specifico è quello che utilizzeremo ci sono alcuni punti che vengono considerati oltre il tracciato e quindi viene compare l'avvertimento e nel caso in cui fossimo in qualifica il giro viene annullato quindi all'inizio abbiamo diciamo questa bandiera bianco nera che ci avvisa che siamo a rischio perché abbiamo appunto ecceduto troppo in tagli oppure in comportamenti un po troppo aggressivi e quindi bisogna prestare un po attenzione successivamente potrebbe arrivare appunto la bandiera nera che viene esposta ovviamente al pilota che viene considerato eh squalificato ehm questo appunto come ho detto prima all'eccessivo numero di infrazioni magari che ha eh accumulato durante la la sessione oppure per un eccessivo taglio insomma nel momento in cui viene esposta la bandiera nera il pilota in questione deve regarsi ai box e eh fermarsi lì poi abbiamo la bandiera nera con il cerchio arancione che sta ad indicare che c'è una vettura che ehm è danneggiata insomma la sua vettura è danneggiata e ehm può essere appunto considerato un un pericolo alcune volte magari su sette corsa competizione se avete picchiato abbastanza pesantemente contro le barriere o contro qualche qualche altro pilota non avete la macchina che è proprio da ritirare però può camminare ma in alto a destra o a sinistra non ricordo precisamente compare appunto questa bandiera nera con il cerchio arancione che vi indica che dovete necessariamente tornare ai box per effettuare eventualmente le eh riparazioni insomma se nel caso in cui non venisse rispettato questo eh avvertimento che che avvertimento diciamo lo consideriamo più come un obbligo eh può scattare la squalifica e quindi poi la la bandiera nera poi abbiamo la bandiera bianca invece eh può avere dei significati differenti a seconda delle delle circostanze può indicare l'ultimo giro in una gara e rimarrà praticamente visibile per tutto l'arco del dell'ultimo giro anche su sette corsa competizione su iRacing viene compare insomma in alto la la bandiera bianca appunto quando effettivamente abbiamo iniziato l'ultimo giro ma può stare anche a significare la presenza di un veicolo più lento sulla pista quindi eh se magari si procede lentamente perché magari abbiamo picchiato e abbiamo dei danni quindi la macchina più di tanto non va ci teniamo su fuori da dalla traiettoria ideale però appunto i commissari possono andare a sventolare la bandiera bianca per far capire a chi sopraggiunge che c'è comunque un pilota eh non è fermo ma che sta procedendo lentamente lungo il tracciato e ovviamente in questi casi bisogna prestare la massima attenzione poi abbiamo la la bandiera gialla che viene utilizzata ovviamente per la presenza di un pericolo in quel determinato settore e ehm ci possono essere ovviamente delle vetture ferme per per incidente per problemi tecnici però rispetto alla bandiera bianca qui la vettura solitamente è proprio ferma cioè non non si muove magari nella ghiaia nella sabbia insomma è ferma per qualche ragione appunto magari per gli eccessivi danni da un po' la macchina non va più e siamo costretti a dove la diciamo parcheggiare dove dove siamo arrivati in quel in quel momento appunto viene sventolata la bandiera gialla e quindi indica che in quel punto può esserci del del pericolo più che altro nel quel settore di di pista non è che viene sventolata nel punto preciso dove dove si è fermata magari la vettura o comunque c'è un problema ma visto che il tracciato viene diviso in settori la troverete prima dell'inizio del del settore anche nel mezzo nel caso in cui è effettivamente ehm prevista la una postazione con con i commissari però principalmente all'inizio del del settore appunto che va a segnalarci la presenza di un di un problema può essere anche sventolata in caso di ehm condizioni meteo molto molto eh problematiche appunto per ehm andare a significare di diminuire la velocità perché magari è un acquazzone particolarmente eccessivo insomma quindi diciamo che il pericolo è generale non nello specifico di una vettura che ha avuto dei dei problemi poi abbiamo le doppie bandiere gialle invece ehm vengono esposte quando c'è un pericolo che ostruisce o totalmente o parzialmente eh la pista quindi ovviamente bisogna prestare la massima attenzione poi c'è la bandiera verde che viene eh solitamente esposta dopo un tratto in cui c'è la bandiera gialla quindi diciamo lo scenario eh solito è questo abbiamo la bandiera gialla che ci dice che da lì in poi c'è eh un pericolo e una volta eh passato il pericolo il successivo tratto troveremo la bandiera verde per dirti ok guarda il tratto incriminato è terminato e potete eh si può continuare la gara normalmente quindi si può accelerare poi abbiamo la bandiera gialla con righe rosse verticali viene esposta quando il manto stradale ha cambiato diciamo il suo grip quindi eh passato da un grip comunque attimale a qualcosa di più scivoloso quindi nel caso in cui abbia appunto piovuto tanto sta piovendo tanto ehm ci sono comunque delle pozzanghere e quant'altro oppure quando eh appunto c'è del dell'olio o comunque qualcosa che rende viscito eh l'asfalto nei simulatori onestamente non l'ho mai vista a comparire quindi insomma sappiate che che esiste anche questa tipologia di bandiera perché appunto magari un giorno potrebbero implementarle e quindi sappiamo effettivamente che cos'è poi abbiamo la bandiera rossa che ovviamente impone lo stop forzato della della sessione sia di prove libere qualifica e anche della della gara e obbliga i ehm i piloti a tornare ai box e mh solitamente c'è in questo arco in cui viene eh esposta diciamo la bandiera rossa anche il tracciato viene diciamo chiuso poi ovviamente in base alle tempistiche perché magari si può dare bandiera rossa dopo un incidente particolarmente eh grave non necessariamente per il pilota in sé ma per magari le bandiere le barriere non le bandiere per le barriere magari che sono state colpite danneggiate o comunque la la struttura in generale non è più eh al cento per cento e quindi bisogna intervenire pesantemente possono appunto dare la bandiera rossa che può portare addirittura alla eh al termine anticipato ovviamente della sessione nel caso in cui le riparazioni o comunque qualsiasi altro intervento vada a ehm prolungarsi troppo e quindi non ci sono più le condizioni per poter continuare la sessione da lì a poco e quindi eh si dichiara insomma la chiusura anticipata ehm può capitare insomma la gara solitamente quando si dà la bandiera rossa si tende a doverla cioè a farla ripartire in qualche modo eh per le sessioni può capitare che si concludano insomma anzitempo ora quanto riguarda invece i simulatori quindi come assetto corsa competizione assetto corsa eh sui racing non c'è sta ehm solitamente può essere diciamo esposta in maniera virtuale dagli organizzatori ehm cioè viene dichiarata magari dagli organizzatori della gara a bandiera rossa per problematiche al server o per problematiche di procedure non non organizzate correttamente insomma magari la la gria di partenza non è caricata correttamente insomma possono succedere queste problematiche eh tecniche e quindi viene forzata appunto la bandiera rossa che sta a indicare appunto che la sessione viene interrotta e si eventualmente procede al restart della gara o della sessione proprio in generale ehm per ultima non per importanza la bandiera blu viene esposta ovviamente quando si è in procinto di essere doppiate da una vettura più veloce ehm ci si sposta dalla traiettoria ideale e si fa passare quando per quanto prima ovviamente i piloti che sopraggiungono mentre nelle altre categorie diciamo che non c'è l'obbligo su assetto corsa competizione ed è una cosa che magari si nota per chi fa gare online o campionati eh magari con eh piloti di che ne so americani o quant'altro ehm in quella tipologia di gare esiste la bandiera blu però non sei costretto a a spostarti è chi ti deve sorpassare che deve deve passarti ovviamente nel massimo della sicurezza e per evitare insomma di rovinare la gara a te che stai per essere sorpassata ma anche a lui che sta sorpassando quindi non da questo punto di vista tecnicamente sono sono nel giusto ovviamente eh prestiamo sempre attenzione quando facciamo queste manovre ripeto proprio per il fatto che non loro non sono obbligati a spostarsi non favoriscono il sorpasso insomma quindi è come se fossero effettivamente in gare e quindi un po' il sorpasso tocca eh tocca sudarselo quindi cercate ovviamente di prestare attenzione alla manovra soprattutto in queste condizioni perché eh tecnicamente poi in torto ci siete voi se lo andate a intruppare se rovinate la gara a lui e a voi stessi insomma quindi eh sono fasi abbastanza eh concitate anche perché comunque si è in gara si vuole passare è anche abbastanza delicata appunto perché d'altra dall'altro lato non tecnicamente non è costretto a favorirvi il sorpasso allora con questa ultima bandiera l'abbiamo spiegate tutte ora magari qualcuna me la son persa però diciamo il grosso modo dovrebbero essere queste qui e ci sarà un altro video in cui non saremo in macchina perché ci sono alcuni concetti che voglio eh spiegarvi ci sono tre regole secondo me fondamentali per il il sim racing più che altro per cercare di andare forte sì ma con costanza perché nel sim racing non vince chi va più veloce e basta ma serve anche costanza soprattutto perché eh in una gare eh gare abbastanza lunghe mezz'ora un'ora insomma la costanza è tutto assolutamente sia per quanto riguarda il consumo delle gomme sia anche per il ritmo di gara eh in una gara magari di tre ore eh fa fa la differenza non non serve andare forti magari un giro e l'altro giro sei mezzo secondo più lento non ovviamente non è non è la stessa cosa bisogna cercare di essere il più eh costanti possibile e per farlo ci servono alcune accortezze che andremo a vedere nel prossimo video quindi io direi che ci possiamo appunto fermare qui come sempre vi ringrazio per la visione se vi va lasciatemi un pollicino in su quindi io vi saluto e e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao